La politica agricola comune per l'agricoltura è una sfida ambiziosa sulla quale pesano ancora troppe incertezze a causa delle forti criticità nel comparto del commercio determinate dalla pandemia a segnalarlo e la col diretti Puglia. Damiana Sgaramella. Una sfida ambiziosa sulla quale pesano ancora troppe incertezze è ciò che rappresenta la politica agricola comune per l'agricoltura a partire dalla necessità di garantire risorse adeguate per l'approvvigionamento alimentare dei cittadini europei dopo le gravi criticità affrontate dal mondo del commercio e causate dalla pandemia da Covid-19. Lo segnala la col diretti Puglia. La competitività in agricoltura secondo la col diretti regionale si gioca sulla sostenibilità e la tutela del reddito delle imprese e sulla disponibilità di strumenti adatti affinché non sia solo uno slogan ma si traduca in comportamenti concreti. È necessario semplificare e velocizzare gli addempimenti burocratici riducendo drasticamente i costi dalle imprese e agendo con coerenza nel disegnare le politiche dell'Unione Europea soprattutto in materia di ricerca e innovazione. Per l'olivicoltura col diretti ha chiesto il recupero di risorse con gli strumenti a disposizione della politica agricola comune dagli aiuti uniti agli ecoschemi e agli interventi di gestione del rischio fino alle misure del piano di sviluppo rurale. Tra i punti più rilevanti aggiunge la col diretti il compromesso sugli ecoregimi che dovranno essere tradotti in misure semplici ed efficaci in termini di innovazione per consentire agli agricoltori di continuare nel percorso di sostenibilità già iniziato. E sul tema della condizionalità sociale e dei diritti dei lavoratori, la col diretti chiede di garantire adeguatamente i redditi degli agricoltori, premiare comportamenti virtuosi in coerenza anche con il piano nazionale di ripresa e di resilienza, di affrontare i danni provocati dei cambiamenti climatici, favorire il ritorno alla terra in atto nelle giovani generazioni e assicurare lo stesso rispetto dei diritti dei lavoratori e dei requisiti sociali in tutta Europa. Grazie a tutti.